E proprio Papa Francesco nei suoi interventi ha più volte auspicato una gestione trasparente e responsabile dei beni della Chiesa. Proprio di gestione dei beni ecclesiastici si è discusso nel corso di un convegno di studi a San Giovanni Rotondo. Il servizio. La gestione dei beni ecclesiastici pone sempre una serie di problemi. Uno di questi è, come dice Papa Francesco, che debbono essere utilizzati correttamente. E certo, tutto il patrimonio della Chiesa ha una finalità, che sono i fini del Vangelo. Per realizzare questi fini si ha bisogno di strumenti, ecco che andiamo nel patrimonio. E quando parliamo di cose, di patrimoni, anche perché sono situazioni che provengono da secoli, si rivestono anche di tante problematiche. Gli ambiti sono tanti. Questo convegno ha toccato qualcuno dei problemi. Io cito solamente una quantità di beni che sono collegabili alle cosiddette leggi eversive del XIX e del 1800. Per cui si pensi che parliamo di questi beni espropriati dallo Stato, dove i conventi hanno avuto una loro destinazione. Però stanno in piedi le chiese. Per dare dei numeri, nella terra di Bari ci sono 104 conventi espropriati con 104 chiese. In tutta Italia, secondo uno studio del Sor Cardia, sono 2000 i beni sottoposti a questa tipologia. Con una legislazione che dice delle cose e poi non si comprende. Ecco, voglio dire, abbiamo situazioni poi di beni che hanno anche un certo valore culturale, architettonico, sui quali bisogna avviare o far continuare una riflessione, una riflessione finalizzata su diverse sponde. Una, quella esigenza di salvaguardia di questi beni, perché sono di natura culturale. E dall'altro lato, poi, questi beni sono ancora usati da un'unità sociale. Anche il diritto della religione, del culto è uno dei diritti basilari. Per cui, come dire, non considerarli, non curarli, non valorizzarli, significa anche togliere un diritto a una collettività. La Chiesa paga su limu le tasse su quei beni che c'è da pagare. Su beni che, secondo le leggi dello Stato, sono esenti, non si pagano. Io vi dico che, di quello che mi risulta come amministratore, diciamo, una diocesi, si è rispettosi delle leggi dello Stato.